Salve a tutti, questa è la mia opera per il contest Bozzetto della Lancia d'Oro. Il tema del contest è celebrare i 100 anni che ricorrono dalla fondazione della squadra di calcio della città di Arezzo. L'opera si compone di forme geometriche molto semplici. In cima abbiamo una coppa che poggia su una palla da calcio. Questo perché mi piaceva l'idea di vedere il quartiere triunfante alzare la lancia d'oro quasi fosse una coppa di un mondiale di calcio. Sulla coppa è riportata una C. Questa ha due significati, la serie calcistica dove si colloca la squadra di Arezzo attualmente e dallo stesso tempo il simbolo del numero romano che quantifica il valore di 100 unità, che rappresenta 100 anni. Sulla palla da calcio poggiano le figure di due cavalli e quella dell'elmo del maestro di campo. I due cavalli rappresentano rispettivamente i due cavalli dei cavalieri del quartiere triunfante della ciostra del Salacino. Dallo stesso tempo viene semplice ricondurre i cavalli al simbolo dell'Arezzo, il cavallo rampante. Il maestro di campo al centro è voluto per rievocare la figura importante dell'arbitro centrale nel ruolo delle partite di calcio. La testa d'equino che poggia sull'elmo del maestro di campo è tagliata per lasciare spazio a un QR code. Il QR code potrebbe semplicemente essere stampato su una lastra metallica e poi fissata alla lancia. Il QR code ha lo scopo di condurre il quartiere triunfale alla NFT della lancia d'oro. Questo ha lo scopo di enfatizzare l'evoluzione tecnologica manifestata in questi 100 anni ed avvicinare i giovani alla revocazione storica. Ringrazio tutti per la visione. Ringrazio tutti per la visione.